Sì, è un po' di polacco, è un po' di polacco, è molto, è una zona da Bacchia, ma chi è se vuol dire che è la vendita di un medico, il proprietario di polacco. Comunque, io per l'anno ho avviato qui, perché abbiamo sopporto, è un po' di polacco, è un po' di polacco, è un po' di polacco. Sì, è un po' di polacco.